ma che cosa è questa benedetta destrutturazione della personalità tu cosa puoi dirci pier la destrutturazione della personalità e il toglierci tutte le abitudini dannose involutive e rivestirci di nuove abitudini di nuovi modi di fare evolutivi dicendo questo ho detto una cosa estremamente semplice ma carichiudi una complessità scientifica abbastanza vasta perché la destrutturazione è un processo estremamente doloroso per l'essere umano e quando parlo di essere umano parlo dello spirito perché di fatto il processo di crescita dell'essere umano che avviene nel triplice settenario e si conclude a 21 anni ingabbia noi spirito intelligenza all'interno di una struttura fisica e di una struttura animica due esoscheletri chiamiamoli così che diventano automatismi che ci condizionano a eseguire e a pensare in un certo modo quindi per lo spirito liberarsi di queste abitudini liberarsi di queste forme espressive della propria natura sul piano fisico sul piano animico e anche intellettuale è molto estremamente doloroso quindi quella frase che il signore dice lascia tutto e seguimi racchiude una profondità scientifica che solo oggi poteva essere capita lasciare tutto non è tanto lasciare un conto in banca piuttosto che un'automobile a una casa o quello che sia quello tutto sommato si potrebbe fare ma lasciare tutto vuol dire abbandonare le parti più intime di tutte quelle strutture che determinano l'espressione di quella che noi chiamiamo la personalità la personalità viene costruita dalla società dall'educazione dall'informazione dagli usi costumi consuetudine tradizioni e così via quindi noi alla fine ci identifichiamo con la personalità ma è sbagliato noi non siamo la personalità e questo inganno porta certe persone marco tante forse l'avrò detto anch'io nel passato è ma io sono fatto così ho fatta così ma tu non sei fatto così ho fatta così se ti sei formato in questo modo a secondo degli stimoli che hai ricevuto nella tua vita stimoli che poi diventano abitudini diventano consuetudine diventano struttura personalità ecco quindi che si è creata una gabbia cristallizzata dalla quale non riesce più a scappare e questo lo vediamo benissimo nell'incapacità che all'essere umano medio a causa dell'informazione sbagliata che ha ricevuto di porre mano ai gravissimi problemi che lo angustiano ad esempio l'economia cioè per l'essere umano normale ragionare in termini di vita pensando che il denaro sia inutile non gliela fa il denaro è contemplato come essenza stessa della possibilità espressiva dell'essere umano ma se il denaro è un fatto umano cioè una organizzazione umana una consuetudine umana può essere cambiato ora siccome il denaro produce enormi sofferenza estrema ricchezza da una parte enorme miseria dall'altra ma perché non lo cambiamo questo sistema sistema e ci sediamo tutti intorno a un tavolo e ragioniamo un sistema diverso e invece sembra che sto denaro esista a prescindere dall'uomo ma è sbagliato se togliamo l'uomo il valore non c'è più e mi spiego meglio se io prendo tutto l'oro i diamanti e il denaro del mondo e lo metto in mezzo a un gru quanta scimmie tutta quella roba lì per le scimmie non ha valore le scimmie continueranno a mangiarsi le banane non gli interesseranno i gioielli l'oro i soldi alle scimmie e scimmie quindi il valore lo creiamo noi quindi se non c'è l'essere umano non c'è valore tale per cui per deduzione logica l'essere umano è il valore più alto invece noi esseri umani addirittura entità divine ed eterne ci siamo prostituiti a fare una vita da miserabili inutile di sofferenza a causa di una creazione umana perché non ce la facciamo perché l'indottrinamento che riceviamo fin da bambini ci fa pensare al denaro come qualcosa di essenziale qualcosa senza il quale l'uomo non può sopravvivere e invece è solo un inganno perché l'esistenza del denaro ci mette nelle mani come schiavi di coloro che il denaro lo fabbricano che il denaro viene fabbricato è un qualcosa di umano ora in questi giorni si discute tanto delle misure che il governo deve prendere in relazione alla crisi economica creata dal coronavirus e lì discussioni e gli euro bond e i corona bond e il mess c'è un bailame di stupidaggini di stupidaggini ma scusate ma non l'avete sentito mario draghi qualche anno fa gli ha detto la bcea risorse illimitate ma se la bcea risorse illimitate vuol dire che non c'è un problema economico se esiste un problema economico è solo perché qualcuno non vuole che queste risorse illimitate siano messe a nostra disposizione invece io mi giro intorno mi sembra davvero con un branco di pazzi di cretini che non capiscono l'evidenza dei fatti quindi a quali obblighi deve sottostare giuseppe conte tale per cui ad esempio lui non non col governo non emette dei titoli di stato disponibili agli italiani tale per cui sono gli italiani stessi attraverso il risparmio e l'investimento nei titoli di stato del governo che possono pagarsi la rinascita perché in italia esiste un fondo personale di risparmio che credo sia oltre i 4 mila miliardi una cifra enorme noi invece dobbiamo sempre andare dallo strozzino 400 miliardi mille miliardi 100 mila miliardi ma sempre a prestito cioè indebitarci vita natural durante noi e tutte le generazioni future domanda ma perché questo governo non lo fa visto che un gruppo di saggi in italia proposto un piano di salvezza nazionale basato solo sul risparmio privato italiano cioè a debito zero perché non lo fanno perché perché il popolo non protesta chiedendo che venga dal governo adottata questa misura perché siamo un branco di scemi che non capiamo nulla e accettiamo come verità rivelate tutte le loro menzogne e tutti i loro inganni posso anche presumere marco che nemmeno lo stesso giuseppe conte che comunque è una persona biente nata all'interno di questa società che lui stesso non riesca a immaginare un modo diverso di salvare l'italia agli italiani ma un popolo ignavo si merita i governanti che ha se io devo ragionare in termini di legge di causa ed effetto ecco quindi quanto è complicato il problema della destrutturazione noi a causa delle consuetudini che accettiamo come verità rivelate non riusciamo a lasciare tutte queste consuetudini sbagliate che ci fanno stare male ci fanno soffrire fino alla morte perché non riusciamo a destrutturarci la destrutturazione passa per quelle cose che ci ha insegnato il signore nel vangelo e per la nuova iniziazione che è stata data nel tempo della rivelazione cioè nel tempo del paraclito che è questo lo spirito di verità